forse non sapete che la fontana del vacchio è stata costruita nel 1665 in occasione della programmazione di prato come città e che il castello dell'imperatore conosciuto anche come fortezza di santa barbara fu costruito a partire dal 1248 è l'unico esempio di architettura sveva presente in italia centrale forse non sapete che al museo del tessuto di prato viene proiettato il primo film in 3d sulla lavorazione del test un viaggio fatto di sogni passione energia grazie